I lavori della seduta odierna saranno assicurati anche mediante la trasmissione in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ricordo altresì che secondo l'articolo 135,3,4, primo periodo del regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. Dopo la risposta del Governo, l'interrogante ha diritto di replica per non più di due minuti. La prima interrogazione è quella del collega Fornaro che ci ha chiesto di anticipare il prima possibile perché ha altri impegni con altre commissioni e gli concediamo tranquillamente questa facoltà. Prego. Grazie, mi scuso quei colleghi ma costituiamo una commissione d'inchiesta alle due, devo essere presente. Signor Sottosegretario, con decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre scorso si è definita una norma assolutamente condivisibile che stabilisce che le convenzioni per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segretario comunale non possano superare il numero di 5 enti. Questo provvedimento però sta ponendo problemi in alcune regioni, a numerosissimi piccoli comuni, perché il numero di segretari è assolutamente insufficiente e quindi si trovano nelle condizioni di avere vacante ruolo di segretario anche per ragioni di vicinanza territoriale, omogeneità e non riescono a stipulare convenzioni rispettando questa norma. Cioè hanno convenzioni con un numero di comuni superiori. Si chiede pertanto alla Ministra, al Ministero, per quanto di sua competenza, quale azione intende attuare per risolvere la difficile situazione che è evidenziata nell'interrogazione superando gli ostacoli ora presenti che impediscono ai piccoli comuni di attuare le convenzioni per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segretario comunale ovviamente con tutte le problematiche ad esso connesse. Prego, sottosegretario. Signor Presidente, onorevoli deputati, con riguardo alle criticità segnalate nell'atto di sindacato ispettivo, informo preliminarmente che in data 28 aprile 2021 è stato adottato il decreto del Ministro dell'Interno, poi registrato dalla Corte dei Conti il 13 maggio scorso ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, finalizzato a integrare l'articolo 2,1 del decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020 avente ad oggetto modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Come noto, tale ultimo decreto ministeriale ha stabilito che ad una medesima convenzione possano partecipare al massimo cinque enti. In alcune regioni però, a causa sia della presenza di un notevole numero di comuni di piccola dimensione sia della carenza di segretari comunali, è emersa l'esigenza di elevare il numero degli enti locali convenzionati oltre il limite dei cinque previsti. Tale necessità è stata anche evidenziata nell'ambito della conferenza Stato-Città nella seduta tenutasi il 17 dicembre dell'anno scorso 2020. Peraltro, con il richiamato decreto ministeriale del 28 aprile scorso, l'articolo 2,1 del decreto ministeriale del 21 ottobre 2020 è stato aggiunto il seguente periodo. Il Ministero dell'Interno può autorizzare convenzioni con più di cinque enti, qualora sussistano motivate esigenze rappresentate dagli enti locali interessati e siano indicate le modalità necessarie per assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni segretariali. Di conseguenza, ferma restando la natura straordinaria della possibilità di deroga al limite massimo dei cinque enti, la richiesta di autorizzazione in questione dovrà essere inviata al Ministero dell'Interno che verificherà le esigenze per le quali si richiede la deroga. Dovranno altresì essere indicate le modalità organizzative attraverso le quali si intende assicurare che le funzioni segretariali vengano svolte in modo da garantire costantemente il buon andamento dell'azione amministrativa in tutti gli enti interessati. Rappresento inoltre che si procederà ad un monitoraggio periodico sull'utilizzo della suddetta norma derogatoria al fine di esaminare eventuali criticità sorte in fase applicativa. E dirò, abbiamo chiarito che saremmo, come dire, piuttosto stringenti. Cioè, vorremmo verificare che le modalità con le quali ci sarà indicato che sia possibile coprire più di cinque comuni siano spiegate con, diciamo, con chiarezza perché appunto non vogliamo che la risoluzione, diciamo, dal punto di vista quantitativo abbia un impatto sul piano qualitativo. Più in generale, in ordine alle procedure di reclutamento finalizzate all'assunzione di segretari comunali, informo che per quanto attiene allo svolgimento del sesto corso-concorso volto all'assunzione di 224 segretari, le cui prove scritte hanno visto la partecipazione di 636 candidati, la Commissione di concorso sta procedendo con le prove orali e concluderà i propri lavori entro il prossimo mese di giugno. Ripeto, si tratta dell'assunzione di 224 segretari. Al fine di reclutare ulteriori 172 segretari comunali, con il Decreto-Legge 162 del 2019 convertito in legge il 28 febbraio 2020 con la legge numero 8, è stata disposta l'istituzione di una sessione aggiuntiva al concorso appena accennato al quale sono ammessi a partecipare sia i candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo di idoneità al termine del concorso in discorso, sia gli idonei del terzo, quarto e quinto corso-concorso precedenti, purché in possesso del punteggio minimo di idoneità. Evidenzio infine che per colmare la carenza organica ed assicurare con regolarità nuove iscrizioni all'albo, con DPCM del 5 dicembre del 2019 è stato autorizzato l'avvio di un'ulteriore selezione relativa al settimo corso-concorso finalizzata all'assunzione di 171 segretari comunali. Prego, collega Fornaro. Grazie, mi dichiaro soddisfatto. Era esattamente quello che si richiedeva, cioè una norma ponte che garantisse sostanzialmente una adattabilità, ripeto, di una norma condivisa. Io ho fatto l'amministratore e il sindaco e cinque enti sono già un numero più che sufficiente per poter avere garanzia di un lavoro e di un'attività fondamentale come quella del segretario. Però oggettivamente molti ex colleghi sono ed erano in una situazione di forte imbarazzo perché fisicamente non c'erano i segretari. Quindi credo che quello che conta è anche l'ultima parte della sua risposta, perché da questo punto di vista l'ingresso in organico di 224 più 162 più 171, se non ho preso male nota della sua risposta, effettivamente possono mettere in condizione di avere delle forme associate coerenti con l'obiettivo che è le funzioni del segretario comunale. Sono e chiudo assolutamente d'accordo sul fatto che questa norma derogatoria debba essere sottoposta a controllo e non ci devono essere, diciamo da questo punto di vista, atteggiamenti amicali o di furbizia, insomma per dirla tutta, e invece si debba rispettare il rigore necessario nello svolgimento di questo ruolo. Grazie. Grazie a lei. Procediamo con l'interrogazione a prima firma. Sorte, credo ci sia la collega Ruffino per l'illustrazione. Prego. Grazie Presidente. Buongiorno ai colleghi. Il mio intervento è relativo alla sede del reparto volo dei vigili del fuoco del Piemonte. Sono ormai due anni in cui si susseguono gli studi di fattibilità per la realizzazione della nuova sede. Parlo dell'aeroporto di Aeritalia che dista a pochissimi minuti dal comando provinciale di Torino e inoltre anche sede di tutte le unità di soccorso speciale presenti in regione ed è ovviamente anche rapidamente imbarcabile. È un punto cardine delle operazioni di protezione civile della regione ed è base operativa dell'elisoccorso 118 ed è anche sala operativa della protezione civile. La mia intenzione è quella di chiedere certamente una rapida realizzazione della nuova sede tenendo però conto, e questa è una richiesta molto importante, di tutti gli studi di fattibilità valutando ovviamente i migliori, tenendo anche conto delle varie proposte che sono arrivate dai sindacati dei vigili del fuoco. Prego, sottosegretario. Signor Presidente, grazie. Onorevoli deputati, con l'atto di sindacato ispettivo all'ordine del giorno gli onorevoli interroganti nel segnalare la inadeguatezza dell'attuale sede del reparto volo Piemonte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nei pressi dell'aeroporto di Torino Caselle suggeriscono di orientare la scelta della nuova sede presso l'aeroporto cittadino Aeritalia situato in comune di Collegno in provincia di Torino. L'attuale reparto volo Piemonte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è ubicato nei pressi dell'aeroporto di Torino Caselle, in un complesso edilizio ormai inadeguato sotto il profilo delle dimensioni rispetto alle accresciute attività tecnico-logistiche e operative, soprattutto in previsione della prossima assegnazione di elicotteri Agusta AW139 e dell'integrazione degli equipaggi con personale elisoccorritore e sommozzatore. Più specificamente, le esigenze aeronautiche del Corpo Nazionale richiedono particolari requisiti dimensionali e prestazionali relativamente a numerose variabili tecniche. Inoltre, ai fini dell'idoneità, è necessario che i siti siano compatibili con le normative di controllo e la regolamentazione di settore e quindi sottoposti al parere dell'ENAC. Deve poi essere considerato il fatto che l'area in cui insiste l'attuale reparto volo non consente il suo ampliamento, sicché la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte ha da tempo avviato la ricerca di altro sito idoneo dove ricollocarlo, individuando due possibili soluzioni. La prima in altra area, sempre attigua all'aeroporto di Caselle, da annettere al sedime aeroportuale, e la seconda presso l'aeroporto cittadino Aeritalia, situato nel comune di Collegno. Nello scorso mese di gennaio è stato costituito un apposito gruppo di lavoro per ulteriori approfondimenti tecnici necessari all'individuazione del miglior sito dove ubicare la nuova sede del reparto volo in argomento. Il gruppo di lavoro ha ricevuto l'incarico di valutare se le suddette aree fossero effettivamente disponibili e fruibili, nonché di verificare se i piani di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali interessate fossero adeguate relativamente agli aspetti tecnico-operativi, nonché impiantistici e tecnologici connessi all'impiego degli elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. A tal fine sono state svolte interlocuzioni con la società SAGAT di Torino, che gestisce l'aeroporto di Caselle, la società TNE, Torino Nuova Economia per l'Aeroporto Aeritalia, e con l'ENAC, nonché sopralluoghi in campo e analisi della documentazione disponibile. Sono stati anche analizzati con la massima attenzione i contributi forniti dalle organizzazioni sindacali del personale interessato. Inoltre è stato effettuato anche un confronto con la progettazione e la realizzazione dei più recenti reparti volo del Corpo, tra i quali quello di Venezia. Per quanto ottiene il reparto volo di Torino, il gruppo di lavoro, sentito anche l'ufficio per l'impiego antincendi boschivi della flotta aerea, ha ravvisato la necessità di prevedere che la struttura sia realizzata con dimensioni ambientali, da poter ricoverare anche l'elicottero S-64F in dotazione al Corpo Nazionale, rischierato normalmente nell'area nord del Paese durante il periodo della campagna antincendi boschivi invernale. Per quanto ottiene invece i servizi aeroportuali necessari a soddisfare le esigenze operative del Corpo Nazionale, anche alla luce dell'acquisizione della nuova linea di volo AV-139, il gruppo di lavoro ha ritenuto di fissare, in linea con la quasi totalità delle realtà aeronautiche del Corpo, uno specifico quadro esigenziale. Le conclusioni del gruppo di lavoro sono ora all'esame delle strutture centrali del Ministero dell'Interno per una valutazione finale ai fini della individuazione della soluzione più idonea per la riallocazione del reparto volo dei vigili del fuoco del Piemonte. Prego, collega Ruffini. Grazie, ringrazio per la risposta sicuramente molto meticolosa. Questa ritengo sia una scelta importante per il sistema della sicurezza piemontese. Devo anche dire che ho riscontrato una grande attenzione e volontà di dialogo da parte del direttore regionale e da parte dell'ingegner Parisi della direzione centrale dell'emergenza. Dall'altro lato non posso fare a meno di ricordare che questo insediamento valorizza il territorio piemontese, che quello che noi chiamiamo Aeroclub ha delle opzioni importanti esistenti che debbono essere ancora forniti dei dati concreti sullo studio. Proprio ieri ho parlato con il Presidente dell'Aeroclub, ho avuto anche informazioni da parte dell'Aeroporto di Caselle. Devo dire che in Corso Marche c'è il reparto volo più grande in Italia, che lo studio preliminare ci fa pensare che si possono contenere le esigenze. Mi riferisco agli hangar, agli uffici, ai piazzali e che in generale gli aeroporti nazionali hanno delle dimensioni minori. Siamo comunque ovviamente contenti e soddisfatti di tutto ciò che si potrà portare in Piemonte. La Commissione ha incontrato il campo volo e pare abbia dato un parere positivo. Sono quindi ottimista anche perché, chiudendo, devo ricordare che il tempo da Corso Marche nel raggiungere tutto il sistema dei concorsi è di 5 minuti, mentre per Caselle è 20 minuti. Quindi questi credo siano elementi importanti. Io seguirò la questione e sono certa di avere la massima collaborazione. Grazie. Grazie a lei. Prego, collega Tonelli. Grazie, Presidente. Nei giorni scorsi a Bologna si sono verificati a poche ore di distanza due eccletanti reati di grave allarme sociale. L'11 maggio una rapina a mano armata da un portavalori davanti alla sede Cargibo di Via Bentini. Il 12 maggio una sparatoria al quartiere Pirastro tra un tunisino e un marocchino originata da un regolamento di conti per questioni legate allo spazio di droga. Non si tratta certamente di case isolate. Se è vero come è vero che l'indice della criminalità elaborato da sole 24 ore ha posto Bologna nel podio delle città più pericolose d'Italia nel 2019 e nel 2020, in linea con la posizione degli ultimi decenni. Secondo la stessa classifica la città occupa il quarto posto nel Paese con 5.867 reati denunciati ogni 100.000 abitanti. Si evidenza che questa descritta non individua picchi criminali da ricondurre a circostanze eccezionali e temporane. Le statistiche dei reati redatti a cura del Ministero dell'Interno dimostrano in maniera incontrovertibile che la situazione di grave insicurezza è riscontrabile in maniera lineare e costante negli ultimi decenni. Il problema di sicurezza pubblica per Bologna non è soltanto reale ma anche endemico e perciò richiede un'adeguata risposta da parte dello Stato. A fronte della situazione sopra descritti, il Governo di sinistra nella precedente legislatura sull'altare della Spending Review ha proceduto a tagliare numerosi reparti territoriali delle forze delle ordine e gli organici di oltre 40.000 unità con la legge Madia. La ricaduta su Bologna è stata di oltre 600 divise tagliate con un calo di circa il 40% delle pattuglie predisposte per il controllo del territorio e delle attività investigative. Quali misure il Ministro intende adottare per garantire la sicurezza dei cittadini bolognesi in considerazione del fatto che i dati esposti in premessa fotografano una situazione drammatica e se non ritenga a tal fine necessario rafforzare l'organico del personale della Polizia di Stato in quella città. Prego, Sottosegretario. Grazie, Signor Presidente. Onorevoli Deputati, come ricordato dagli onorevoli interroganti, l'11 maggio scorso di fronte alla banca intesa ubicata in via Bentini a Bologna, è stata perpetrata una rapina in danno di una guardia giurata in servizio di portavalori. Le indagini finalizzate all'individuazione dei rapinatori sono ancora in corso. Lo stesso giorno, nella zona del pilastro, si è verificato il ferimento di un cittadino marocchino pregiudicato per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti e indagato per altri vari reati. L'attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato ha permesso di individuare gli autori dell'agguato da ricondurre probabilmente a contrasti per il traffico di sostanze stupefacenti. Si tratta di due fratelli tunisini, entrambi pregiudicati, uno dei quali è stato rintracciato in provincia di Bologna e sottoposto a provvedimento di fermo per tentato omicidio e porto illegale di arma da sparo, mentre il secondo, il 22 di maggio, è stato individuato in Germania dove si era recato all'indomani dell'evento delittuoso. Nei suoi confronti è stato eseguito dalla Polizia tedesca un provvedimento di mandato di arresto europeo. All'indomani degli episodi criminali appena ricordati si è svolta presso la Prefettura di Bologna una riunione di coordinamento delle forze di polizia cui è seguito in data 25 maggio scorso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale ha partecipato, oltre al Sindaco, il Presidente del quartiere Sandonato-San Vitale, che è la sede della località Pilastro. Nel corso del Comitato è stata positivamente valutata la proposta avanzata dal Sindaco di Bologna di realizzazione di un progetto di potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nel quartiere da declinare per l'aspetto tecnologico in sede di tavolo tecnico coordinato dal questore, d'intesa con i comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con la collaborazione del Presidente del quartiere. Tale progettualità costituirà oggetto di esame nel corso di un prossimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si svolgerà nel mese di giugno, entro il mese di giugno. Si segnala inoltre che nel quartiere Pilastro è prevista l'attivazione di un nuovo presidio territoriale dell'Arma dei Carabinieri per l'inizio dell'anno 2022. Sotto il profilo delle dinamiche criminali sottolineo che i più recenti dati sulla delittuosità e la connessazione di contrasto nel Comune di Bologna fanno emergere che nei primi tre mesi del 2021 i delitti sono diminuiti del 24,2% rispetto allo stesso periodo del 2020. In particolare quelli relativi agli stupefacenti hanno subito un calo del 13,8%. A fronte di tale variazione il numero delle persone denunciate o arrestate è aumentato del 6,3%. Quanto alla prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, il tema è stato esaminato nel corso degli anni in diverse riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, durante le quali sono state avviate strategie operative attraverso la pianificazione di misure di intervento congiunto tra le forze di Polizia e quelle di Polizia Municipale. Tra le misure pianificate si evidenzia l'azione di prevenzione di contrasto mediante il rafforzamento degli ordinari servizi delle forze di Polizia e la predisposizione di mirati servizi straordinari coordinati condotti dalle stesse forze di Polizia in forma congiunta. È stato altresì previsto un impegno incisivo delle forze di Polizia e della Polizia Municipale, integrato con l'inserimento della presenza delle forze armate nell'ambito dell'operazione Strade Sicure e il potenziamento dell'attività di vigilanza nell'area del Parco della Montagnola. Al fine di contrastare più efficacemente i fenomeni di illegalità e di degrado presenti nel territorio del capoluogo, la Prefettura di Bologna ha rafforzato la collaborazione interistituzionale nell'ambito della cosiddetta sicurezza urbana integrata. In questa direzione riveste una particolare rilevanza la sottoscrizione nel luglio del 2019 del protocollo d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per la promozione di specifiche progettualità. Le parti firmatari si sono impegnate, tra l'altro, a promuovere progetti di controllo elettronico del territorio con l'installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza ed il potenziamento di quelli esistenti. Per quanto invece riguarda i presidi delle forze di Polizia nella provincia di Bologna, l'arma dei carabinieri è presente con una forza effettiva di 1.071 unità, mentre la Guardia di Finanza ha un organico di 622 elementi. Nella città metropolitana di Bologna, poi, l'arma dei carabinieri è presente con una forza effettiva di 459 unità, mentre la Guardia di Finanza ha un organico di 549 elementi. La Polizia di Stato nella provincia di Bologna è presente con 2.369 uomini. La locale Questura, che nel mese di luglio verrà ulteriormente potenziata, ha un organico di 863 unità. Questo intervento si inquadra in una più ampia logica di razionalizzazione ed ottimizzazione nell'impiego delle risorse, teso a rendere sempre più efficiente l'azione di prevenzione e contrasto delle forze di Polizia, unitamente alla valorizzazione dell'azione di raccordo e coordinamento tra le diverse forze di Polizia effettuata in stretta relazione all'analisi e al monitoraggio degli scenari della sicurezza sul territorio. Prego, collegato Nenni. Grazie, Presidente. Devo dire che non sono soddisfatto, perché serviva un attimo più di concretezza. È chiaro che qui si fa ragionamento soltanto di progettualità, faremo videosorveglianza e altro. Apriremo una stazione dei Carabinieri. Certo, sono molto contento che questo venga fatto, ma vorrei sapere dove vengono presi gli uomini per poter, voglio dire, sostenere questo, da dove vengono tolti gli uomini dall'altra parte. Allora qui il problema è un problema più complesso. Questi dati dimostrano che da 30 anni le politiche realizzate a livello locale sono state sbagliate. È chiaro che, voglio dire, l'ente locale, il Comune non ammetterà mai questo che esiste un'emergenza criminale perché significa ammettere il fallimento totale delle proprie politiche. Bologna, città aperta, da 30 anni era lo slogan. Mentre invece ci rendiamo conto che si è pagato un duro prezzo, perché se da 30 anni rimane al vertice delle classifiche criminali del nostro Paese significa che un grosso problema c'è. E come se c'è. E, come mi ha confermato, non serve molte volte fare degli slogan rassicuranti, come ha fatto il suo collega Sibiglia, dicendo falsamente di aver partecipato a quel comitato che lei stessa oggi ha smentito aver fatto e, voglio dire, che verrà inviata una task force. Quale task force? Vede che nel suo intervento non c'è. Allora non possiamo con le chiacchiere, con gli slogan, affrontare il problema. Il problema è uno. Sono stati tagliati in maniera irresponsabile nella precedente legislatura, in dieci anni di spending review, un numero esorbitante di operatori delle forze dell'ordine, oltre 40.000 in Italia. Questo significa oltre 2.500 nella regione e da 6.800 nella provincia di Bologna. E questo ha portato a un calo del controllo del territorio del 40% nelle attività, nelle pattuglie, nelle volanti, nelle gazelle dei carabinieri e serve anche potenziare quella che è l'attività investigativa. Allora qui serve un impegno in questo senso. C'è un'emergenza. L'emergenza va affrontata. In questa maniera sono stati fatti degli errori. Ecco, io vorrei che lei si facesse portatore in questo senso anche nei confronti del Ministro dell'Interno perché stiamo veramente affrontando un piano nazionale di ripresa e resilienza. E però faccio notare che si è avuto attenzione di sanare quelli che sono stati gli infausti tagli della spending review in tantissimi settori, ma nel settore della sicurezza non è possibile. Io credo, credo, che la certificazione arrivi anche questa mattina dai quotidiani locali dove addirittura in un quartiere importante, in uno dei più popolosi della città, il quartiere di Bolognina, addirittura i cittadini, non il gioagliere, non la singola banca, ma i cittadini si stanno affidando e facendo accordi con istituti di vigilanza privata per poter garantire sicurezza nelle proprie vie. Questo è il fallimento dell'operazione dello Stato. È il fallimento. Perché se lo Stato fallisce sulla sicurezza, fallisce certamente in quella che è la prima, la funzione primaria. E come sappiamo la sicurezza è il presupposto in questo caso proprio, visto che dobbiamo riprendersi, concludo, e dobbiamo rinascere, dobbiamo riprendere anche sotto il profilo economico, la sicurezza è il presupposto per qualsiasi progresso materiale ed economico di una comunità. E su questo servirebbe maggiore attenzione. Grazie. Allora abbiamo l'interrogazione prima firma a Laimo, c'è la collega Baldino per l'esposizione. Prego. Sì, grazie Presidente. Molto brevemente questa interrogazione nasce da un'interlocuzione del mio gruppo con diverse prefetture che ci hanno segnalato una carenza importante di organico per far fronte a tutte le ordinarie necessità, ordinarie e straordinarie. Partiamo da un concorso indetto nel fine del 2019 per 200 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Poi ovviamente a seguito della pandemia i concorsi sono stati sospesi. Poi è emanato una norma attraverso il decreto credo rilancio di semplificazione dei concorsi pubblici. Oggi abbiamo seguito l'audizione della Ministra Lamorgese della scorsa settimana dove faceva riferimento ad una interlocuzione con il Ministro Brunetta per avviare un ciclo di assunzioni straordinarie per la carriera prefettizia. La domanda è se alla luce di questo il Ministero non ritiene di attivare lo svolgimento delle prove pre-selettive del concorso per i 200 posti indetti nel 2019. Prego Sottosegretario. Grazie Signor Presidente. Onorevoli Deputati, con decreto ministeriale 8 novembre 2019 pubblicato in gazzetta ufficiale serie speciale concorsi ed esami numero 91 del 19 novembre 2019 è stato indetto il bando di concorso pubblico per titoli ed esami a 200 posti per l'accesso alla carriera prefettizia in riferimento al quale sono state presentate 15.939 domande di partecipazione. Ai fini dell'espletamento delle prove pre-selettive l'amministrazione dell'interno ha stipulato con Formex PA apposita convenzione per la fornitura della banca dati dei quesiti oggetto delle prove pre-selettive, dei locali e di tutta la logistica necessaria per l'espletamento delle prove stesse. Ragioni organizzative connesse all'attività di Formex PA unitamente alla sopravvenuta emergenza sanitaria Covid-19, nonché alle conseguenti sospensioni delle procedure concorsuali imposte dal decreto legge numero 18 2020 e dal DPCM 3 novembre 2020 e successivi provvedimenti, hanno impedito di programmare in maniera puntuale le prove pre-selettive del concorso in parola. Quanto alle novità in materia concorsuale connesse all'attuale situazione emergenziale, si fa presente che il richiamato articolo 247 del decreto legge 34 del 2020, come modificato dall'articolo 25,1 lettera A del decreto legge numero 104 2020, non trova applicazione per il personale prefettizio, essendo per espressa previsione normativa tale disposizione relativa a procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale. Per quanto concerne invece le novità introdotte da ultimo con l'articolo 10 del decreto legge 1 aprile 2021 numero 44, che prevede per le amministrazioni pubbliche anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica numero 487 del 94 e della legge 56 del 19, quindi che prevede modalità semplificate di svolgimento delle prove, si rappresenta che tali disposizioni non si applicano, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico, di cui l'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165, quali quelle concernenti il reclutamento del personale appartenente alla carriera prefettizia. Al riguardo si rappresenta che, in considerazione dell'attuale situazione assunzionale del personale prefettizio e della rilevanza delle relative funzioni, peraltro accresciute nel periodo del Covid, l'amministrazione continuerà a svolgere ogni utile iniziativa per l'accelerazione delle prove preselettive che si terranno nei prossimi mesi in sedi decentrate, anche in modalità informatica, al fine di limitare lo spostamento dei candidati sul territorio nazionale. Grazie, prego, collega Baldino. Sì, grazie, Presidente. Ovviamente la notizia della riattivazione delle prove preselettive ci conforta non poco, anche perché è vero, per fronte a un periodo di pandemia, il lavoro delle prefetture è stato ingente, però in un momento di riespansione delle libertà è chiaro che con la ripresa dei grandi eventi sportivi, delle grandi manifestazioni, anche con un'attività di controllo che saranno tenute a svolgere, l'attività sarà sempre più intensa, quindi sarà necessario intensificare gli organici come ci hanno richiesto le prefetture. Procediamo con l'interrogazione a prima firma Meloni. C'è il collega Prisco per l'illustrazione. Sì, grazie, Presidente. Il detenuto marocchino Buakta El Alam, che anche era imam nel carcere di San Michele d'Alessandria, attraverso i suoi sermoni avrebbe posto in essere una fitta attività di proselitismo islamista e di reclutamento. Dalle attività di indagine compiute sul caso è emerso, tra le altre, anche che il soggetto profeliva parole di odio contro la dottoressa Suad Sbai, giornalista e Presidente del Centro Alti Studi a Verroè, per la diffusione delle culture mediterranee, esortando i suoi seguaci alla decapitazione della giornalista. Poi, ovviamente, l'attività di indagine, grazie anche alle forze dell'ordine magistratore di andare avanti, ovviamente con un'ordinanza di custodia cautelare per lo stesso soggetto, resta il fatto che la Sbai nel compiere questa meritoria attività è stata di fatto lasciata sola dalla politica, dalle istituzioni, dall'associazionismo, salvo rare eccezioni, tra cui ovviamente la solidarietà della Presidente Meloni. è anche in questa occasione appare grave che non abbia ricevuto nessuna comunicazione dell'esito, diciamo, di sicurezza di questo particolarissimo attività. Tant'è che ci chiediamo e chiediamo quali siano le ragioni per cui non sia stata immediatamente prevista un'adeguata misura tutela della dottoressa Sbai e ovviamente anche del giudice estensore della sentenza di condanna del soggetto prima richiamato. Prego, sottosegretario. Grazie, signor Presidente. Onorevoli deputati, in relazione a quanto evidenziato dagli onorevoli interroganti, rappresento che il cittadino marocchino Bukhtahel Alam è sottoposto alla detenzione in carcere dall'8 aprile 2015, in esecuzione prima della misura custodiale e poi della sentenza di condanna alla pena di anni 8 di reclusione, che lo ha riconosciuto responsabile del reato di traffico di sostanze stupefacenti all'esito dell'attività d'indagine posta in essere dalla Questura di Torino. Durante il periodo di detenzione presso l'Istituto Penitenziario di Alessandria, il Ross Carabinieri ha avviato un'attività d'indagine finalizzata ad accertare l'integrazione ad opera di El Alam del reato di cui agli articoli 414,4 e 604 bis,1 del Codice Penale. L'indagine, avviata nel febbraio 2020, ha consentito di accertare che l'indagato, sfruttando il ruolo di imam de facto, attribuitosi in ambito carcerario, aveva fatto apologia di diversi attentati terroristici, giustificando la violenza in difesa dell'Islam, esaltando il jihad armato e istigando gli altri detenuti musulmani all'odio religioso. Inoltre risulta che il predetto, nel corso dei colloqui con altri detenuti, abbia esternato minacce nei confronti della magistratura di Torino. Alla luce di quanto accertato, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del detenuto in questione per i reati di istigazione a delinquere e apologia di delitti di terrorismo e propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, eseguita presso la Casa Circondariale di Novara in data 13 maggio 2021 dal ROS dei Carabinieri. In data 19 maggio 2021, l'Allam è stato associato alla Casa Circondariale di Ferrara ed assegnato al circuito di alta sicurezza. In merito alle misure di tutela invocate dagli interroganti, l'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale ha comunicato che la Prefettura di Roma ha disposto, al termine della riunione di coordinamento delle forze di polizia dello scorso 19 maggio, pochi giorni fa, l'adozione di una misura tutoria nei confronti della dottoressa Suaz Bai, riservandosi di procedere a nuova riflessione volta ad una migliore definizione della sua esposizione a pericolo all'esito degli approfondamenti informativi avviati. Informo inoltre che in sede di riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia tenutasi nello scorso mese di aprile presso la Prefettura di Torino, con la partecipazione del procuratore generale presso la Corte di Appello di Torino, su segnalazione di quest'ultimo, è stata esaminata la situazione del magistrato cui si fa riferimento nell'interrogazione e valutata unanimemente l'adozione di una specifica misura tutoria. Assicuro infine che costante e intensa è l'attenzione delle forze di polizia nel contrasto del terrorismo, l'incessante e coordinata attività investigativa ed operativa delle forze di polizia trova un'essenziale risorsa nel Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo, ovvero il proprio Fusion Center, che riunisce in un medesimo contesto le forze dell'ordine e il comparto intelligence, garantendo un alto livello di cooperazione interistituzionale e dando un contributo rilevante al miglioramento delle politiche di sicurezza. Prego, collega Prisco. Se o non ho ovviamente capito male dalla risposta del sottosegretario, pare che siano state adottate misure tutorie che mi auguro siano sufficienti ovviamente a garantire la sicurezza degli interessati, anche perché ovviamente non manchiamo di ringraziare il lavoro, anche in questo caso preziosissimo, fatto dalle forze dell'ordine e della magistratura. Come ci ha ricordato ieri anche nella audizione il capo della polizia, non bisogna abbassare assolutamente la guardia contro il pericolo dell'estremismo islamico. La miglior risposta che lo Stato può dare a quella parte del mondo islamico che rispetta le regole, che combatte il fondamentalismo accanto all'Italia, deve essere appunto quella di dire che chi si espone viene tutelato e protetto. Accanto a questo ovviamente come Fratelli d'Italia abbiamo sempre fatto proposte perché vi siano elenchi degli imam, perché i sermoni avvengano in lingua comprensibile, tanto da fornire alle forze di polizia e alla magistratura l'opportunità di tenere sotto controllo eventuali esagitati fomentatori e tracciare i fondi che spesso finanziano i centri islamici più pericolosi. Questo ovviamente è una delle tante misure assieme ovviamente all'introduzione del reato di fondamentalismo islamico che dobbiamo mettere in atto e che in questa commissione si stanno discutendo proprio in questi giorni per porre una barriera e un'argine al fondamentalismo islamico. Su questo ovviamente Fratelli d'Italia farà come ha sempre fatto la sua parte. Grazie. Ora possiamo procedere con l'interrogazione prima firma Di Maio. Dovrebbe essere collegato da remoto il collega Di Maio. Prego. Grazie. Sono state devolute dopo la sua soppressione avvenuta nel 2013 alla questura di Forlì-Cesena. Per effetto di tale riorganizzazione sono state trasferite 37 unità di personale alla questura, cinque unità al compartimento della Polizia Stradale dell'Emilia-Romagna, tre al compartimento Polizia Ferroviaria dell'Emilia-Romagna e due al centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena. Attualmente, secondo quanto emerge dal piano dei voli programmati, nell'aeroporto Ridolfi operano quattro compagnie aeree nella fascia oraria dalle 8 alle 20 e dal prossimo primo giugno l'attività si estenderà alla fascia oraria dalle ore 6 alle ore 24. Nella prospettiva di un rilancio del traffico aereo, la zona Polizia di Frontiera di Bologna ha assicurato per le esigenze di Polizia di Frontiera nell'aerostazione la formazione specialistica di una liquida di personale pari a 12 unità della questura di Forlì-Cesena nei settori dei controlli di frontiera e della security aeroportuale. Tale personale, nella seconda decada dello scorso mese di marzo, ha effettuato una sessione di addestramento presso l'ufficio Polizia di Frontiera Aerea di Bologna. Inoltre, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha segnato sette dispositivi informatici dotati del sistema informativo di frontiera SIF per l'espletamento dei controlli presso l'aeroporto di Forlì. Per quanto riguarda invece la presenza dei presidi della Polizia di Stato, si rappresenta infine che la provincia di Forlì-Cesena è dotata di una forza effettiva di 525 unità che, già incrementata di 25 effettivi nell'anno 2020, sarà ulteriormente potenziata di 12 unità entro il mese di luglio 2021. Nel dettaglio, la questura opera con una forza effettiva di 198 unità che, già aumentata di 6 effettivi nel corso del 2020, sarà incrementata di ulteriori tre unità entro il mese di luglio 2021. Prego, Di Maio. Sì, ringrazio il sottosegretario. Penso sia una risposta che va nella direzione da noi auspicata, anche perché la riapertura dell'aeroporto ha assorbito il personale, quindi ci fa piacere che il tema sia l'attenzione del Ministero e stia trovando, insomma, una risposta positiva usandoci che queste tappe intermedie di un percorso di ulteriori incrementi di personale, perché nella provincia ce n'è bisogno, tra l'altro una provincia anche a carattere turistico, quindi c'è anche il tema che non è oggetto dell'interrogazione, ma che abbiamo sottoposto anche per le vie brevi al Ministero dei Posti di Polizia e Stili, che sono appunto altra questione importante, rilevante, sulla quale ci auguriamo possa esserci una risposta altrettanto positiva. Grazie. Buone, possiamo procedere con l'interrogazione prima firma a Calabria? Prego, collega Calabria. Grazie Presidente. Per segnalare gli atti gravissimi si sono verificati il 22 e il 23 maggio a Roma le numerose aggressioni contro gli agenti della Polizia Locale impegnati a garantire il rispetto delle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica. In particolare c'è stato un evento in piazza di Santa Caterina della Rota dove oltre a insulti vari e lancio di vari oggetti c'è stato il lancio di una bomba carta agli agenti virre sopraggiunti al fine di separare alcuni ragazzi impegnati in assembramenti vari. È ovviamente un fatto gravissimo ai danni degli agenti della Polizia Locale che si aggiunge a tanti altri fatti molto gravi ai loro danni, quindi siamo qui a chiedere quale iniziative si intendano adottare per contrastare questi gravissimi fenomeni che pongono a rischio ovviamente la sicurezza degli operatori di Polizia dei cittadini di Roma Capitale, anche promuovendo lo stanziamento di nuove e maggiori risorse a tali scopi specificamente destinate in considerazione della contingente epidemia socio-economica conseguente alla pandemia da Covid-19. Grazie. Prego sottosegretario. Grazie signor Presidente, onorevoli deputati, in merito all'episodio cui si fa riferimento nell'interrogazione il prefetto di Roma ha acquisito elementi dagli uffici di Roma Capitale. Risulta che lo scorso 21 maggio il personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, impegnato nei servizi di prevenzione e controllo del territorio volti alla verifica del rispetto della normativa vigente anche in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 alle ore 21 e 30 circa interveniva in piazza Santa Caterina della Rota per una segnalazione di un assembramento. Sul posto veniva riscontrata la presenza di molte persone, la maggior parte priva di dispositivi di protezione individuale, intente a consumare bevande alcoliche e che provocavano disturbo alla cittadinanza con grida ed emissioni acustiche provenienti da casse portatili e minicar equipaggiate con impianti stereo. Il personale operante ha invitato le persone a rispettare le norme sul distanziamento, provocando brusche ed oltraggiose reazioni da parte dei presenti. In particolare un gruppo di giovani accostati alla facciata della chiesa della piazza in argomento lasciava sul selciato un ordigno luminoso a circa 4 metri dal personale operante che dopo qualche istante esplodeva provocando un fortissimo boato. Immediatamente la polizia municipale si adoperava per verificare eventuali danni a persone e per ristabilire l'ordine. Dopo circa un quarto d'ora la situazione è tornata alla normalità. La polizia di Roma Capitale ha posto in evidenza che saranno intensificati i servizi svolti dal corpo di polizia locale nell'ambito del complessivo dispositivo di vigilanza disposto dalla Questura di Roma. In ogni caso l'attenzione del Ministero è massima anche in questa fase di ripresa delle attività che riveste aspetti di delicatezza. In tale contesto ricordo che con circolare del gabinetto del Ministro dell'Interno dello scorso 19 di maggio i prefetti sono stati richiesti di condividere in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica le linee di pianificazione delle attività di controllo dando impulso al conseguente coordinamento tecnico operativo dei servizi territoriali. In particolare la direttiva si focalizza sulle aree maggiormente esposte al rischio di sovraffollamento perché interessate da più intensi flussi di mobilità o dalla presenza di locali ed esercizi aperti al pubblico nonché sulle fasce orarie della cosiddetta movida e sulle giornate festive e prefestive. È stata richiamata altresì l'esigenza di garantire il pieno coinvolgimento delle polizie locali nell'attuazione dei dispositivi di controllo soprattutto negli scenari urbani ove l'impiego di tali operatori può risultare maggiormente incisivo. prego collega. Grazie sottosegretario purtroppo non posso dichiararmi pienamente soddisfatta dalla sua risposta anche perché lei ci ha elencato una serie di disposizione prevista all'interno della direttiva del 19 maggio direttiva che tra l'altro contiene una serie di impegni che dovrà prendere la polizia locale ancora per ottemperare al suo dovere di garantire il rispetto delle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica. La mia domanda invece era riferita a quale misure il governo intendesse adottare per garantire il lavoro in piena sicurezza della polizia locale che come sappiamo appunto è impegnata a garantire legalità e salute pubblica senza le dotazioni necessarie e idonee per lo svolgimento della propria attività. Non c'è stata una risposta a questo e ovviamente al di là di appunto di questi interventi contingenti, emergenziali, estemporanei resta un problema di fondo, cioè l'inadeguatezza sistemica dell'ordinamento della polizia locale. Con riferimento a Roma è evidente che le risorse e l'attenzione dedicata alla polizia locale non sono minimamente commisurate all'ampiezza e alla gravosità delle funzioni. in questa prospettiva anche questa commissione si sta ben occupando della riforma di Roma capitale soprattutto con riferimento all'attribuzione alla città delle competenze proprie delle regioni e allora a quel punto approvando questa riforma Roma diventerebbe titolare di potestà legislativa residuale in materia di polizia amministrativa locale diventando così come dire un po' arbitra del proprio destino. Per concludere, su un piano più generale che riguarda l'intero paese, mi sono occupata negli ultimi anni di questo tema, mi sta molto a cuore, è necessaria una ridefinizione integrale dello status della polizia locale. C'è anche un'altrettanto importante riforma all'esame anche di questa commissione che speriamo in questa legislatura possa trovare presso la luce perché le donne, gli uomini che appartengono al corpo della polizia locale non possono avere un contratto che si configura all'interno di un inquadramento di diritto privato e non in quello di diritto pubblico, hanno turni di lavoro ben diversi e corrono dei rischi molto molto seri, ecco perché servono come dicevo prima degli equipaggiamenti adeguati, una normativa aggiornata che preveda tra le altre cose la perequazione assistenziale, previdenziale e pensionistica dagli assetti delle polizie statali, l'equindennizzo, il riordino delle figure e dei profili e la progressione di carriera. Grazie. Grazie a lei, come sa la Presidenza condivide il suo auspicio e voglio anche spendere una parola in più, dato che abbiamo trovato delle risorse per far partire concretamente questa riforma che è da tanto tempo attesa, io spero che non nell'arco di questa legislatura ma che già nell'arco della fine di quest'anno solare si possa arrivare ad una conclusione, infatti nell'ultimo ufficio di Presidenza ho dato impulso ai relatori per interlocuzione con il Ministero dell'Interno per arrivare ad un testo unificato nel più breve tempo possibile. Ultima interrogazione del collega Ceccanti, interviene il collega Micieli per illustrazione. Prego. Grazie Presidente, signor Sostesegretario, buongiorno. I fatti che sottopongo alla sottenzione in questa sede sono l'ennesimo episodio di apologia della criminalità organizzata ed in particolare sono fatti accaduti nel marzo scorso in quel di Padova. Fatti particolarmente gravi perché questa volta consumati a soggetti qualificati. Nello specifico i fatti hanno ad oggetto un voto espresso da parte di un consigliere comunale nell'ambito dell'elezione del cittadino cittadino del del garante cittadino delle persone private della libertà personale. In seno all'elezione infatti all'esito dello sfoglio il risultato espresso da un voto quindi evidentemente ed obbligatoriamente voto espresso da uno dei consiglieri comunali presenti un voto attribuito un consenso attribuito al boss latitante Matteo Messina Denaro. Eh soggetto che la cui notorietà mafiosa non devo spiegare in questa assise e quindi il fatto che questa apologia sia stata consumata da soggetti qualificati connota di per sé di gravità la vicenda. Gravità che è stata percepita anche dalla giunta comunale che si è attivata per il tramite dell'assessore alla legalità l'avvocatura civica annunciando e credo depositando una eh denuncia per questi fatti. Ora poiché e io la ringrazio perché lei eh è stato in terra di mafia di recente lei è stato in quella in provincia di Palermo lei è stato a Corleone e la presenza delle istituzioni e soprattutto del ministero dell'interno in quelle in quelle sedi ha di per sé una funzione riabilitante da parte lo Stato che per troppo tempo è stato lontano e ha consentito alla mafia di essere stato nello Stato. Eh e quindi con la sensibilità che la contraddistingue le chiedo intanto di quali elementi disponga conoscitivi disponga rispetto a questo fatto a questo episodio il ministero e se non vi siano gli estremi proprio in relazione all'annunciata denuncia e eh all'eventuale eh attività di identificazione del soggetto anche mediante saggio grafico che potrebbe essere disposto all'esito delle indagini appurata eventualmente l'identità se non ritiene questo ministero che sussiste nei presupposti di cui al testo unico ed in particolare di cui al cento quarantadue il testo unico perché io ritengo che le istituzioni che si macchiano di fenomeni del genere di apologia della criminalità organizzata vadano soggetti che si macchiano di questo vadano allontanati dalle istituzioni perché le macchiano e non le si dimostrano di non essere adeguati a quel ruolo e quindi a tutela delle istituzioni e dei cittadini le chiedo cosa intende fare il ministero. Prego sottosegretario. Grazie a lei signor presidente, onorevoli deputati con l'atto di sindacato ispettivo gli onorevoli interroganti segnalano un episodio avvenuto il 3 marzo scorso a Padova in occasione della seduta del Consiglio Comunale avente all'ordine del giorno la votazione per la nomina del garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale. La votazione che si è svolta a scrutinio segreto non ha permesso di procedere alla nomina del garante poiché il principale candidato ha raccolto una preferenza in meno rispetto a quorum richiesto che era pari a 21 preferenze. All'esito dello spoglio è emerso che era stato espresso un voto per il noto boss latitante di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. La circostanza che ha avuto ampio risalto sulla stampa locale e nazionale è stata condannata dal sindaco e da esponenti di tutte le parti politiche. Anche il garante nazionale ha espresso il proprio sdegno per l'accaduto definendolo una grave offesa per tutti i garanti che operano per la tutela dei diritti di ogni persona nel fermo vincolo della lotta a ogni forma di criminalità. La locale questura ha segnalato il fatto all'autorità giudiziaria per le opportune valutazioni. A oggi però il consigliere che ha espresso il voto in questione non è stato individuato. Lo scorso 19 aprile il Consiglio Comunale nuovamente convocato a tale scopo ha proceduto all'elezione dei garante. Per quanto riguarda il riferimento alle misure previste dall'articolo 141 del Tuel, osservo però che sul piano generale l'intervento statale previsto da tale disposizione è limitato alle ipotesi tipiche e tassativamente previste dalla legge. In relazione all'applicazione della fattispecie prevista dall'articolo 141,1 lettera A, in base alla prassi e alla giurisprudenza consolidata, per l'adozione della misura dissolutoria è necessario che il caso concreto presenti, oltre che requisiti della gravità, anche quello della persistente violazione della legge. In particolare, non una qualsiasi violazione della legge può legittimare un intervento straordinario che incide in via definitiva sull'autonomia dell'ente e su organi democraticamente eletti, peraltro individuati. Quindi, nell'esprimere a nome del governo la più ferma condanna dell'accaduto, in modo non formale, assicuro che in ogni caso è massima l'attenzione delle forze dell'ordine nella prevenzione, nel contrasto non soltanto della criminalità organizzata, ma anche di ogni sua apologetica esaltazione e che comunque l'accaduto all'esame, del fatto in esame, continuerà a costituire oggetto di specifica attenzione, ovviamente nei limiti legislativamente previsti dal Tuel. Grazie, prego Miceli, due minuti. Grazie, sì, allora io mi ritengo soddisfatto alle condizioni date, nel senso che comprendo perfettamente, anche io ho preso atto della giurisprudenza sul punto, credo sia compresa tutta la gravità della questione, cioè ritenere e indicare un boss latitante come il soggetto autorizzato a garantire i diritti dei soggetti privati alla libertà è uno strumento attraverso il quale si consente a Cosa Nostra in particolare e alla criminalità organizzata in generale di continuare a esercitare il suo potere anche in quei luoghi, nei luoghi preposti alla riabilitazione. Comprendo anche lo sforzo che il Ministero sta facendo, il Ministro credo per due volte in una sola settimana è stato a Palermo a segnalare proprio la presenza dello Stato, è in occorrenza della commemorazione della tragica scomparsa dei dottori Falcone, Morvillo e degli uomini della scorta e adesso è presente con un incontro del Comitato dell'Ordine Pubblico della Sicurezza e però credo che sia opportuno, proprio per le limitazioni che abbiamo rinvenuto nella normativa, forse immaginare anche la possibilità di creare un percorso legislativo che dinanzi a casi così eclatanti possano trovare una soluzione e allontanare uomini che sono indegni di rappresentare le istituzioni. Le chiedo Ministro di seguire quel procedimento penale, di immaginare il Ministero come persona offesa dal reato che ha diritto di confrontarsi con lo procura e di sollecitare la individuazione attraverso saggio grafico, di quel soggetto che non può rappresentare lo Stato e non può essere ancora abilitato a disporre per i diritti dei cittadini. Grazie. Grazie a lei, sono così concluse le interrogazioni. Ringraziamo e salutiamo il Sottosegretario Scalfarotto.